Ciao a tutti! Che possiamo fare oggi? Io oggi avrei pensato di organizzare un memory dei colori, però dei colori in inglese. Allora, dovete preparare insieme ai vostri genitori e ai vostri fratelli dei quadrati. Ne serviranno 20 perché ho utilizzato 10 colori. Allora, prima di tutto ritaglierete i quadrati e poi all'interno incollerete i cerchietti colorati. I cerchietti, se non avete la carta colorata, potete prendere la carta bianca, preparare i cerchi e poi colorare due cerchi per ogni colore. Dopo averli incollati, sapete come si gioca a memory. Allora, partiamo con orange. Yellow. White Brown Pink Red Green Purple Light blue And blue Black blue 200 Black blue Love